Buonasera e ben ritrovati a Senza Impegno, iniziamo subito la puntata così con un'intervista. Senza Impegno è un programma talmente innovativo, totalmente innovativo che non ha bisogno di spettatori, di autori, ma soltanto di una fitta rete di ottimi contatti e soprattutto di ospiti del calibro di Rodrigo de González de Cardera de Raúl, l'ex politico Isidori. Buonasera. Buonasera a tutti los muchachos e las mujeres. Mi piace perché finalmente Rodrigo non si nasconde più, non mente più, ha tirato fuori la sua vera personalità, è diventato un cantante a tempo pieno e ci fa molto piacere soprattutto di aver abbandonato quel ambito bruttissimo che è la politica. Ah, la politica fu un incubo, fu un incubo Davide su un passato doloroso. E lei era anche un degno rappresentante. Ma è passato, è il passato. Ma è passato. L'importante è che ora continuerà questa sua grandissima carriera artistica, dopo il grande successo del primo CD, c'è già un altro in preparazione, giusto? Sì, sì, ne è già un altro in preparazione. E su cosa averterà, c'è come sarà quest'altro CD, cosa, qualche idea in mente? Io, io aspetto l'ispirazione. Ma cosa, c'è che stile, c'è, non molto semplicemente una ballad, un gospel, un coro russo, una musica new web italiana, una musica finto rock. Però dico, ma lei ne capisce qualcosa di musica o suona così a comediene? Queste sono le accuse di quei giornalisti come te che vogliono rovinare coloro che hanno sempre combattuto per questa nazione. È una vergogna! Rodrigo, iniziamo seriamente a pensare tutti che lei soffra di una brutta doppia personalità. No Davide, io sei solo un cantante che ama cantare l'amore. Rodrigo, ci dica qualcosa sul suo prossimo CD, cosa potrà mai essere, magari un jazz punk inglese, una musica nera africana. Questa è un'affermazione razzista, 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 sono quelli come te che rovinano l'Italia, razzista, razzista. Rodrigo, non ci faccia perdere tempo, vabbè, cambiamo argomento. Com'è la relazione in questo momento con la sua amante che ricordiamo era incinta, per il quale ha abbandonato anche sua moglie? Come sta andando questa relazione adesso? Ma questo non è il male maggiore, Davide. Anche mia moglie mi ha lasciato. È scappato con un altro ombre e adesso aspetta un hijo. Vabbè, se una storia d'amore finisce, finisce. Non possiamo stare lì a intristirci troppo su queste relazioni. Davide, io sono molto triste perché lei è stata anche fotografata da un giornale con quel bastardo che mi ha preso la mujer. Guarda, guarda, e sa chi, e sa chi, e so a chi. Ma eris tu, il presentatore maldito! Sono un povero cantante, io non sono un presentante. Ai 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 ai, sono un povero cantante, io non sono un presentante. Senza impegno, è il programma che dà la felicità. Senza impegno, se tu cambi canale poi cambi città. Senza impegno, è un programma pieno di simpaticità. Ho scritto sto pezzo però senza impegno, tanto già lo so, mi pagate lo stesso. No, veramente non ti paghiamo, è tutto gratuito. E buonasera a tutti i nostri telespettatori, siamo qui rientrati a Senza impegno per la prima puntata del 2021 che in realtà sarebbe la puntata zero secondo il nostro conteggio, dato che abbiamo fatto l'ultima, poi la penultima, abbiamo fatto la prima, poi abbiamo fatto Senza impegno con meno impegno. Vabbè, comunque, il nostro conteggio. Questa è la puntata zero del 2021, perché stiamo provando appunto il format per il 2021. Noi siamo persone a moto ogni anno, cambiamo format, ci piace fare queste cose un po' così. Sarà una puntata straordinaria, ci saranno degli sketch meravigliosi, delle interviste... Davide, se ti devo, ferma un attimo, ti devo dire una cosa importante che l'ho dimenticato di dirtelo prima. Cioè, che succede? Che sta succedendo? No, niente, Davide, ti ricordi il fatto del... quando durante la cena aziendale parlavamo ma se ci trasferissimo, se andassimo altro posto... Non mi sembra il momento giusto per parlarne adesso, dato che siamo in onda. Scusate, no, è che praticamente, Davide, ci trasferiscono. Dove? E tu chiudi gli occhi. Immagina il vento, il sole, le spiagge. Ah, la Puglia. Tipo più a nord. Foggia. Nord-est. Foggia, la parte più brutta. Corea del Nord. Corea del Nord. Che ne ho fanno in Corea del Nord? Perché la direzione non è contenta e ha deciso di dare una svolta a tutto, al programma. Ok, cioè, però in Corea del Nord siamo un posto un po' più lontani. Sì, no, e dici tu perché la Corea del Nord? Perché lì non hanno avuto contagio e qua invece non si capisce più niente, sai, giallo, rosso, arancione. Invece là è tutto pulito. Ok, però mi sembra un po' strano. Comunque, se dobbiamo andare in Corea del Nord, noi ci andiamo, c'è un problema, tutti ma di ragazzi vengono. Sul noi è anche lì è un po' da vedere. Quindi noi non siamo inclusi nel viaggio in Corea del Nord? Sai Davide, quando finisce una relazione è bello ricordare appunto le cose belle, i momenti gioiosi. Ma c'è possibilità di rimediare, io posso essere migliore. Davide, il problema è che non sei tu la Corea del Nord. Ma non possiamo fare tutto. Però tu considerati in prova, tu continua questa puntata, anche perché a livello di tagli di capelli ti sei comunque conformato allo standard. Grazie, ho capito che ti è piaciuto il mio nuovo look, grazie a tutti. No, è che è peggio di quello del nostro caro leader. Mi devo imparare pure questa cosa? Sì, no, devi inchinare guardando la camera. E niente, no, è questo fatto qua, quindi tu continua la puntata, tranquillo, non ti preoccupare. Poi tu però immagina che la vedranno i coreani, i nordcoreani. Quindi ci saranno poi degli spot, degli inserverò. Tu continua tranquillo, rilassato, non ti preoccupare. Rilassatissimo. Vai, c'è, tranquillo. Scusami, giovane, giovane, ma mica c'è un dizionario di coreano. No, ma poi ci ridoppiano, non ti preoccupare. Pronto? Pronto intervento? Sì, ciao, ciao. E no, volevo chiedere se mandate, se mandate tre volanti a Porta San Donato e tre ambulanze. Anzi, facciamo quattro, va, quattro ambulanze. No, no, no. Non è successo niente per adesso. E infatti se le mandate verso mezzanotte e mezzo e poi... Eh, no, chiamo adesso perché dopo ci sono le linee intasate, capi? Sono chiamando adesso. Anzi, perché poi tutti quanti a fare lì, anzi, auguri pure a voi. Oh, sti stronzo, mi hanno riattaccato. Buonasera e ben ritrovati a Senza il Pegno. È il momento più esaltante per me e anche per i nostri telespettatori. Un momento che anche Mentana ci invidia mentre osserva delle scene a Capitol Hill. Ehm, siamo qui con uno degli inventori di uno dei maggiori giochi più divertenti e che le persone hanno riscoperto in questo periodo di pandemia. Sì, stiamo parlando di giochi da tavolo, dei board games. Non, per esempio, non stiamo parlando dei war games, che sono quelli lì, giochi con cui giocano i bambini invece di pensare a comprarsi un bel cavalluccio rosso al mercato. Ma noi stiamo parlando dei board games, che sono appunto i giochi da tavolo, che hanno riscoperto una nuova vita durante la pandemia. Abbiamo con noi uno dei più grandi ospiti, uno dei grandi inventori di board games del mondo. C'è con noi stasera, senza impegno, Gigic, Lodo Quenzi, Seven Wonders. Grazie, grazie. Buonasera, dottor Gigic. Grazie, dottor Lodo Quenzi. Buonasera, dottor Seven Wonders. Grazie. Grazie a te per aver accettato il nostro video. No, ma grazie a voi. Una domanda che... Ma, cioè, proprio Seven Wonders è scritto col sessi, così? Sì, 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 col numero, col numero. Cioè, si scrive proprio con... Proprio col numero, sì, infatti col codice fiscale non ti dico. Allora, comunque, abbiamo avuto tantissimo che tu fossi il nostro ospite perché nell'ultima anno a casa del Covid appunto molte persone hanno riscoperto il piacere dei giochi da tavola a parte magari le serie TV, internet, magari, ne lo so, andare a vedersi qualche serie particolare, qualche film in particolare, oppure passare il tempo su alcuni siti un po' sconciarelli che occupano tutta la fibra, che non vi posso qui dire, ma vi potrei mandare qualche link in privato. Ottimo, vai, allora ti do il mio contatto telegramma a posto. Tra questi passatempi c'è anche quello appunto del Board Games e soprattutto anche un ritorno enorme per il settore ring mistica e non solo anche per i puzzle. Sì, 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 è notato pure io. Che te lo dico a fare? Gli ultimi colpi di un veteroconservatorismo che non ha più ragion d'essere praticamente. E poi ho notato questo passaggio ai giochi di ultima generazione. Ci puoi parlare un po' di come funziona questo mondo? Sì, 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 volentieri. Allora, Board Games, come hai detto giustamente tu, si distinguono dai classiconi che conoscete tutti. Perché? Perché praticamente il fattore fortuna conta molto di meno rispetto al passato, rispetto al risico, alle cose, quando non ti escono i dati, allora non puoi girare, tutte quelle peste perdite di tempo. Tra l'altro, appunto, ci puoi dare qualche nome per i telespettatori a casa? Sì, sì, volentieri. Allora, i miei preferiti? I miei preferiti direi Legends of the Arts, Dragons from the North, Wizard Magic Hell Enchanted, e poi il mio preferito, Salerno Reggio Calabria Ultimate Quest. Bello, bello, bello. Ci va molto piacere. Abbiamo dei nomi ora da cercare su internet. Sì, sì, c'è un mondo, c'è un mondo, c'è un mondo. Anche il percorso fatato di Peppa Pig. In che senso è il percorso fatato di Peppa Pig? No, scusa, mi sono distratto. Mi sono distratto. Allora, dirente, comunque in questo momento, la casalinga di Voghera, la famosissima del passato, o il barista o il tabaccaio di un paese qualsiasi nella provincia di Caserta, tipo, che ne so, San Prisco, o il ministro degli esseri di Voghera stanno pensando a come si gioca questi board games. Cioè, se non c'è un dado, come ci si muove, come si va avanti nei tabelloni? La domanda è legittima e ci sono tanti diffidenti in giro, però la risposta è semplice. Ognuno aspetta il suo turno. Cioè, così, semplice? Sì. Cioè, proprio tutti aspettano il suo turno? Sì, tutto qui. Cioè, nemmeno che ne so, se magari nel gioco tu sei un re di una contea, il capo della polizia, cioè, non hai possibilità di passare avanti. Aspetti il... Ah, no, guarda, in questi giochi ognuno parte con le stesse possibilità. Ognuno ha delle materie prime, in partenza, e inizia a vendere, a comprare, a scambiare, a produrre. Insomma, per vincere, conta soltanto la propria intelligenza e il proprio merito. Il proprio merito è un gioco decisamente poco italiano, e questo le fa onore, quasi. Devo anche dire, forse è anche molto poco toscano, quindi ci fa ancora più piacere, che, come sapete bene, i toscani hanno rovinato questo paese. Però, ci sono delle notizie che dicono che lei stia preparando un altro meraviglioso gioco, che ci farà venire voglia di una terza o di una quarta ondata delle videovie da coronavirus. Forse è già uscito in Inghilterra, perché, come sta la situazione lì, sono tutti quanti a casa per giocarci. Ci può parlare un po' di questo gioco? Guarda, allora, quello che hai detto è vero, però, io te lo dico, è ancora un progetto top secret, anzi, proprio top secret. Una piccola anticipazione per noi, ormai sei qui, dai. Non vorrei bruciare tutta la sorpresa ai miei fan, eccetera, capisci? è una cosa che... Un piccolo assaggio, qualche notiziola, così, tanto che dacci l'acquolina in bocca. Va bene, va bene, sono contentissimo. Giusto qualche particolare, perché sono qui, assenza impegno, e grazie ancora. Stasera, assenza impegno, il meraviglioso inventore di Board Games, Gigi, Clodo Wenzy, Seven Wonders, dove? Sette, con il numero, perché sennò qua non ci specificiamo. Questa cosa così, ci svelerai anche prima. quale sarà il nuovo gioco che ci rovinerà la vita, perché desidereremo di tornare a casa e di giocare sempre e solo a quello tutto il giorno. spiegaci un po'. Va bene, sì, allora, praticamente, allora non gli ho ancora dato un nome ufficiale, nemmeno un working title, ma il gioco sarà, di partenza, quanto di più originale, innovativo e moderno, potete immaginare. Si potrà giocare sia uno contro uno, modalità duello, no? Bello, veloce, eccetera, ma anche, ma anche, in tre, quattro persone, tre, quattro concorrenti, con delle modalità, con delle varianti, tutte le piccole varianti alle regole, sarà, sarà molto divertente e appassierà proprio tutti, grandi e piccini, grandi e piccini. Spieghi cosa succederà, nel senso, in cosa consiste? Sì, sì, allora, sarà, sarà moderno, perché? Perché sostanzialmente sarà essenziale, appunto, devi sapere che in questi giochi moderni, dove il fattore di fortuna, praticamente, conta poco, e ci si muove per turni, appunto, in molti di questi, non ci sono nemmeno i dati per spostarsi, ecco, e, beh, allora, in questo, in questo, non ci saranno i dati, non ci sarà nemmeno il tabellone, volevo spingermi oltre, ogni concorrente giocherà e accumulerà punti, conquistando, mano a mano, nelle varie manche, vari micro obiettivi, e si accaparrerà, mano a mano, nel corso della partita, quattro materie fondamentali. Ah, queste quattro materie fondamentali, quali sono? Eh, vabbè, Davide, non posso dirti di più, devo ancora definire, sono un perfezionista, lo sai, però, comunque, sarà, anche una cosa, in generale, facile, immediata, da capire, nelle sue, nelle sue regole basilari, conturni, interazioni veloci, scambi, anche commenti a voce, perché, figuriamoci, magari sotto le feste, sai, per questa cosa, bello, mi piace un gioco, che magari, porterà gioia e vitalità, nelle famiglie, sì, non ti dico, e non essendoci, il tabellone, appunto, tutto roterà attorno, a delle, ho pensato, a delle cards, a delle tessere, praticamente, piccole, ma tipo domino, no, no, un po' più grandi, sempre rettangolari, formato un po' così, però, comunque, che, delle tessere, delle cards, che, a gruppi di tre, verranno distribuiti, tra i vari, tra i vari, concorrenti, tra i vari giocatori, tra i vari players, e poi, niente, alcune, alcune di queste, pensa, non verranno distribuite, rimarranno a terra, so perché, rimarranno a terra, perché sono cards, che, tutti, potranno usare, per, per i propri, micro obiettivi, però, come funziona, si potranno accaparrare, solo se, il giocatore, ha in mano, una card, dello stesso valore, oppure, di un, dello stesso valore, oppure, uguale, alla somma, in pratica, la somma di due, o più card, che stanno a terra, capivi, come se, per esempio, non lo so, c'ho una card, che vale 5, e, sono due card per terra, che valgono 2 e 3, e io me le posso accaparrare, per i miei micro obiettivi, e arrivare alla vittoria finale, ok, che altro dire, ti posso anche dire, che ho preso contatti, con il, con un produttore, italiano, per questa, la produzione di queste tessere speciali, saranno tessere, appunto detto, tascabili, però niente di collezionismo, perché non mi piace molto, deve essere un gioco accessibile a tutti, quindi sono card economiche, però resistenti, plastificate, made in Italy, illustrate poi, diciamo, in stile vintage, con simbolismi, temi, figure, prese dal medioevo, una mia ricerca personale, saranno, saranno fanti, cavalli, re, questo, 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 e magari le altre carte, che ne so, dall'1 al 7, sì, hanno, infatti c'è una, ho pensato questo, non sono, devono essere, un sistema di numerazione particolare, da 1 a 7, hai pensato purtroppo, 7 perché è numero magico, 7 è numero magico, quindi da 1 a 7, la carta numero 1 si chiamerà, in maniera particolare, si chiamerà, tipo, non lo so, mi viene a, asso, è una cosa del genere, io penso una cosa del genere, è bella me la segno, magari tutte le carte sono, no, io ho pensato che devono essere poche, perché altrimenti si sfoce di nuovo il collezionismo, tipo 40, 40, cioè, io avevo, sì, sono 40 le carte, è giusto? sì, cioè, non di più, come, 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 come lo so, come lo so, con il canno però, però c'hanno un sistema di, ci sono varie metriche per misurare il punteggio di ciascuno, tipo, lunghe, ori, primiera, e 7, è bello, e 7, bello, Gigi, questa è la scopa, la che? la scopa, Gigi, le carte, il gioco di carte, carte napoletane, 40 carte, 3 a test, 4 a terra, spade, bastone, coppe e denari, la scopa, non conosce, non conosce, tu, tu, nelle tue vite, fatti board games, non conosci la scopa, non conosco, cioè, mannaggia la misera, Gigi, manca la scopa, però, a boia, a boia, andiamo uno spot, scopa, Gigi, Gigi, mannaggia la misera, l'assalto al Campidoglio, ti ha profondamente turbato, vivi il costante terrore, di un assalto ai palazzi del potere, vorresti un leader forte, bello, carismatico, ma purtroppo vivi in un'altra regione, c'è la zona gialla e non puoi trasferirti in Campania, e allora cosa aspetti, vola in Corea del Nord, dove il fascino, il mistero, la tradizione e l'antica saggezza orientale incontrano il culto della personalità, lasciati affascinare dal collumbio dei paesaggi incontaminati da cartoline anni 80 con la migliore architettura dell'Unione Sovietica, e cullare dal dolce suono del conformismo, qui non vedrai di certo persone vestite da vichinghi che urlano nei palazzi del potere, c'è gente che urla, ma sono in altre stanze in fondo, sottoterra, e per voi di certo non li sentirete urlare, no, voi sarete impegnati a meravigliarvi di tutto l'ordine, la pulizia e la felicità che si respira qui in Corea del Nord. Cosa aspetti? Vieni in Corea del Nord, il nostro caro leader non aspetta altro che te. Vieni in Corea del Nord, vieni in Corea del Nord, immediatamente. E che faccio, non li bago? Non lo pagare! Non lo pagare il caffè, lascia perdere, anzi vattene prima che si avvicini il barista, te ne devi andare subito, capito? Subito! Vabbè, vabbè, faccio fin da niente, scappo, ciao, 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 ciao. Francesco, sto tornando a casa, te l'ho detto, sto tornando a casa, un attimo, è cascata una bambina, sto cercando di aiutarla. Ma, per favore, guarda, non avvicinarti a quella bambina, lasciala stare, stai alla larga, proprio alla larga, non ti ci devi avvicinare minimamente, vattene spedito a casa, a casa. E mettiti la mascherina. Oddio, ok, 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 vado, vado. Allora, sei arrivato a casa o stai ancora in giro? Un attimo, guarda, se trovo una monetina, adesso te la do. Ma che stai facendo? E no, ci sta una vecchina che gli faccio sempre, gli regalo sempre una monetina, Francesco. Lascia stare, ma per favore. Eh, dai, siamo sotto Natale. Devi stare di stanchissimo, vattene a casa. Oh, ok, ok, lasciamo stare, lasciamo stare, ciao, signora, ciao, 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 guarda, sei senza cuore, cazzo, sei senza cuore. Ma che senza cuore? Ma hai capito che significa tampone positivo? Te ne devi tornare a casa, ma dai retta al tuo medico per favore, per una volta, vai a casa. Sì, guarda, sono arrivato a casa, prendo l'ascensore, prendo l'ascensore, ecco, 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 un attimo che, aspetto un attimo a Mario il cieco che deve entrare in ascensore. Che vuoi fare? Questo vuole fare scoppiare un popolaio, un popolaio. Sì, sì, faccio fin da rumore, faccio fin da rumore. oh, quella vecchina la voglio più disperata, si deve capire la disperazione, lo so che è fuori campo, ma io la voglio disperata per fare l'ambiente. Oddio, ma, ma, ma è deceduta? Una nuova serie, in esclusiva sul primo canale nazionale. Sembrerebbe, un omicidio. Beh, viste le 120 coltellate, o è un omicidio, o è un suicidio molto strano. Dall'autore dei I Bardasci di Pizzo Falcone di Milba Ottobre. Ora bisogna risolvere questo omicidio. Ma no, dai, andiamoci dal bar. Tanto la pandemia arriverà solo tra 90 anni. Un altro capolavoro di Giovanni De Maurizzi. Ma sì, tanto, siamo nel regime fascista. Sì, sta facendo anche cose buone. Il commissario Francesco Ricciardi. Ma chi è il commissario Francesco Ricciardi? Toh, c'è un cadavere. E' anche abbastanza comodo. Ma, questo cadavere mi riporta alla mente una poesia che io ho scrissi un po' di tempo fa, per momenti come questi delicati. plenilunio tra le mie labbra, sopravvissuto ai riflessi di una guerra che non ho scelto, è messata conficcata come lama ardente tra le arterie, pulso ricordi, fiocchi e bolle, nella faretra il dolore di un cielo che si macchia e vive, riluce. disillusione, la mia ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi, delle nostre dissolute e prostrate anime. Psiche d'angelo, nira, mietitrice, siloge di sussurrate croci in fila indiana, attimo che spazza via uragano, flagellato al perdono d'un miserabile, e lacrima purpure, avai, ali in volo, vuoto, roventi sbarre, è uno sbaglio, è un gioco, la vita, carnagione di chiare stelle, sorridi alla morte e lei di rimando, esala, è agonia per maschere di cera, un mimo di violentati pensieri si approva in frantumi di specchio, è ombra alla foce ultima ogni desiderato silenzio. Sì, ma questo come potrebbe risolvere l'omicidio? Il commissario Francesco Riccialdi, il poliziesco meno poliziesco che sia mai esistito, il mio lavoro, qui, con voi, è terminato. Ma non ha fatto niente! Il commissario Francesco Riccialdi, dal 25 gennaio, sul primo canale. Sì, però scusatemi, ma chi è il commissario Francesco Riccialdi? E ben ritrovati in studio, assenza e impegno, ora è il momento dell'appuntamento con la storia, noi ogni settimana avremmo portato nei meandri della storia più antica, dei momenti della nascita tipo di Gesù, oppure proprio nell'attimo esatto in cui il nostro meraviglioso Armando Motto Lamodica Gruber ha preso un camogli nella torsata del tempo. Ma oggi siamo qui in uno dei momenti più importanti del dopoguerra, l'ingresso di Mao Zedong a Pechino con le sue truppe e a raccontarci ovviamente questo appuntamento con la storia, c'è il nostro meraviglioso Armando Motto Lamodica Gruber. Buonasera Armando! Ciao Davide, ciao! Come vedi sono in Cina per fare la storia con la S maiuscola, non come certi sex symbol di qualche rete una oppure qualche medievalista con degli occhiali buffi. Armando, ma c'è qualcosa di... No, guarda, io adesso oggi smetto quelli che sono i panni del menestreo della notizia e voglio indossare i panni della polemica. Davide, io faccio 150 trazioni, alzo 100 kg in panca piana e nessuno parla mai di me come sex symbol della storia, è uno schifo. Diciamo, Armando, capisco che questa è la puntata zero, ci stiamo anche affietando, stiamo cercando di fare un programma abbastanza decente, non inimichiamoci altre tv che poi rischiamo di non andarci subito, io non ho nessun contratto firmato con nessun'altra tv in questo momento, non ci pensare assolutamente, questo non è il contratto quello che ho in mano. Comunque, tutto ciò, una domanda importantissima, perché hai la mascherina, Armando? Che burlone, che sciocco e ingenuo presentatore che mi prende anche in scherzo. C'è il coronavirus? Ma è il coronavirus? A parte il fatto che in Cina, come in Corea del Nord, ricordiamo la Corea del Nord, nella Corea del Nord il virus è stato sconfitto anche in Cina, ma soprattutto in Corea del Nord non c'è mai arrivato il virus. Sì, ma ci sono i pipistrelli. Ma io ti ricordo sempre che tu sei comunque nel 1949, quindi non essere un po' paranoico, Armando. Paranoico? No, io non sono paranoico, è solo una precauzione, Davide, è una precauzione... L'importante, tu non fare l'ipocondriaco, contaci di quello che sta succedendo, non ci pensare a queste cose, se vuoi fare il polgamento in mascherina, non c'è problema. Sì, Davide, pratica... Ma guarda, la mascherina, giovane! La mascherina... Eh, questa la devi mettere qua. Scusami Davide, che qua proprio non capiscono le regole basiche della vita. Stai diventando leggermente ipocondriaco, questo te lo devo dire, però, eh? Ipocondriaco, ipocondriaco, guarda Davide, se tu mi mandi a Napoli durante il colera, io ci vado, mi mandi ad Atene durante la peste, io ci vado, eh, capito? Solo per precauzione. Ma guarda... Avedeo? Avedeo? Cosa è successo? Avedeo? Davide, sembra che alcuni sedicenti terroristi abbiano ucciso il... a colpi di pistola laser il nostro grande leader Mao Zedong. Avedeo, ma hai sparato tu, l'abbiamo visto tutti. Guarda Davide, è incredibile, sono arrivati dei ninja accatapultati dai tetti e li hanno sparato dritto in faccia. Avedeo, l'abbiamo visto, ci sono delle telecamere, abbiamo notato che hai sparato tu, cioè... Lo so Davide, sei costernato, ma adesso posso tornare dietro nel tempo e cambiare la storia e salvarlo dai ninja. Dammi solo 5 minuti e vado. Fermo lì, in nome del popolo italiano io ti dichiaro in arresto. Ma... ma il commissario Ricciardi, Francesco Ricciardi. Sono anni che sono sulle tue tracce. Come anni? Io adesso l'ho ucciso. Scusami, cosa mi dici del 22 novembre 1963 a Dallas? Guarda, c'era tanta gente, adesso non ricordo. E l'incendio di Roma? È stato un incidente. E nemmeno Berlino 1945 quando hai nascosto le tue tracce hai fatto sembrare che tutto fosse un suicidio. Come sa, ma se uno non può nemmeno uccidere Hitler? Ma noi non siamo nessuno. Non siamo giudici, giuria, carnefici. È lo Stato che deve decidere su una base imparziale. No, basta, non lo posso più sopportare. Vieni con me. No! Vieni con me, anzi, 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 aspetta. Aspetta. Io ho in mente una poesia per il momento. Come quando un bambino si alza e assolve la tempesta, furore di supernove sognate, idillio utopico che assorbe il riflesso di occhi assonnati. Vedi, la marea è fulmine a ciel sereno di canti a mo' di vertigine. Non esiste, è l'abisso. Crolla nelle tue paure e tu sii sovrano del nulla gorgiano, denudati e invoca perdono. Sono dei bambini mutilati da dei infantili. I loro resti il ponte tra il vostro sogno e la mia realtà. non c'entriamo nulla con tutto questo. La, la, mi ricordo, di ricordo, comunque, videino. Un saluto al caro leader. In Corea del Nord puoi respirare, marciare o galoppare nella natura selvaggia, omaggiare il nostro caro leader, studiare fisica nucleare ai massimi livelli, o chiamare la pasta con tutti i nomi che vuoi. Sì, avete capito bene a cosa ci riferiamo. L'importante è che offendiate i diavoli occidentali. No, scusate, è che ho sbagliato pubblicità. No, è che qua dobbiamo ancora riprenderci dalle vacanze. Dovere foglio. No, qui c'è Italia stragista. No, patto stato mafia. Aspe, Gladio. No, Ossi. Spe, qui c'è genocidio indiani, genocidio armé. Ah, ecco, ecco qua. In Corea del Nord puoi marciare, galoppare nella natura selvaggia, omaggiare il nostro caro reader, studiare fisica ai più alti e massimi livelli e basta. Ehi, tu giovane! Sei stato anche tu a Capitol Hill? Posa quello sgabbello e ascoltami! Sei stanco di veder fallire le attività commerciali, i ristoranti, i piccoli artigiani del tuo paese a causa del Covid? Di un po'. Vuoi dare anche tu un contributo per risollevare l'economia locale messa in ginocchio da questa crisi? Vuoi aiutare tutte quelle piccole realtà impegnate nel sociale e magari del tuo comune che rischiano di chiudere a causa della pandemia come centri di recupero e onlus? E che ne dici di supportare anche musei statali, siti archeologici, associazioni culturali, teatri, cineforum, insomma tutte quelle organizzazioni pubbliche e private che organizzano per te concerti, spettacoli, mostre d'arte, reading di poesie, presentazioni di libri? Beh, se vuoi, puoi fare tutto questo anche subito e senza spendere nemmeno un dollaro. Supporta l'artigianato e le attività locali. Dona i tuoi like alle piccole e medie imprese. Bravo, e se mandi un sms al 404 40 040 40 più infinito al costo di solo 1 euro e 99 doneremo un like da parte tua alle attività che più ne hanno bisogno. Che aspetti? Non stare con le mani in mano. Il tuo paese ha bisogno di te. Dona i tuoi like alle piccole e medie imprese. Sto imparando un po' il coreano per far... Davide, ditemi, dimmi. Senti, ti devo dare due notizie, una buona e una cattiva. Visto che sto imparando anche il coreano per la trasferta imminente. Sì, no, la buona infatti è che hai un coreano che sembri uno dei BTS. grazie. Stesso anche il livello di sexitudine, diciamo. Ci sarebbe anche una cattiva notizia. Quale? Non so come dirtelo. Non ci trasferiamo più. E vai! Ma sì! Ma sì, scusate, sono anche scelto fuori di guardatura. Sì, bellissima sta cosa. Tu perché lo sai, quello è cattivo. Ah, ma poi c'è una delle persone più cattive del mondo. Poi è anche grasso. Eh? Cioè, lo posso dire io che magari faccio anche concorrenza, però... Sì, era un po' ridicolo. Ma sì, cioè, è una delle persone proprio più abbiette, cattive, ingenerose della storia del mondo, credo. Sì, no, tu rimani fermo. Grazie. prendetelo. Non so cosa sta succedendo. Giovane... Ma in che senso? Oddio! Anna, grazie. Portatelo via. Oddio! No, no, perché no? Perché era tutto un test e tu l'hai fallito. No! Il nostro bellissimo e buonissimo Io ti voglio bene. Ma usci, menalo, sto tradito. Verrai portato in Corea del Nord. Posso migliorare? No, non puoi. Posso migliorare? Facciamo? Sì, Davide Polino, il conduttore di Senza Impegno, sarà portato in Corea del Nord per una pacifica e dolce rieducazione. Noi e tutto lo staff di Teleprima e l'amministrazione nordcoreana vi augura una buona serata. E... Giudeca. Giovane, però con calma c'è ne che... E ho capito. Io qualcuno lo sa il Corea. Questo quando siete pronti potete iniziare. senza impegno mi sveglio la mattina senza l'impegno vado con calma in cucina e non trovo nemmeno un caffè e un pensiero mi sovviene. senza impegno è il programma che dà la felicità senza impegno se tu cambi canale poi cambi città senza impegno è un programma pieno di simpaticità ho scritto sto pezzo però senza impegno tanto già lo so mi pagate lo stesso no, veramente non ti invaghiamo è tutto gratuito.